La messa in opera della condotta sottomarina del gasdotto TAP che approderà sulla spiaggia di San Foco a Melendugno non solo andrà a deturpare il territorio ma metterà in serio pericolo l'ecosistema costiero e la vita di numerose specie marine che popolano questi splendidi fondali e peraltro non rispetta le prescrizioni di passare ad almeno 50 metri di distanza dalla Posidonia Oceanica. Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i volontari di Sea Shepherd Italia coadiuvati da alcuni cittadini di Melendugno che hanno concluso immersioni subacquee nel tratto di costa di fronte alla spiaggia denominata San Basilio dove è in progetto la realizzazione dell'approdo del gasdotto TAP. Obiettivo delle immersioni è precisato in una nota e la verifica della presenza di fanerogame marine in particolare della Posidonia Oceanica e della Simodocea Nodosa che costituiscono veri e propri ecosistemi protetti dalla Convenzione Rete Natura 2000 della Comunità Europea.